ciao amici benvenuti sul mio canale sono qui con un nuovo video amici vi presenterò i nuovi sviluppi sul cast dell'anima appena uscito i nuovi sviluppi sulla notte e gli ascolti per il primo episodio su schermi tv fox la mia anima non sente la serie in onda sarà una serie a tema argentino la famiglia coral è il più grande proprietario di gioielli in turchia l'agente honor contrabbandiere chivan cercherà di impedire a corali di contrabbandare nei ruoli principali burku interpreterà il personaggio unico dieci cetinelle e poi la bella attrice su cruz ildiz darà vita al personaggio di honor karasu asli sumen darà vita al personaggio di il al coral vi presenterò nuovi post sugli sviluppi e le loro mogli amanti addio e 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 Grazie a tutti.